Avvocato al congresso regionale dell'Udc, un buon riconoscimento per il partito di Canigatti? Sì, infatti, giorno 30 di marzo si è celebrato il congresso regionale e 400 delegati da tutta l'isola hanno, diciamo, sancito un profondo rinnovamento della struttura organizzativa del nostro partito. In chiusura abbiamo avuto l'intervento del nostro coordinatore nazionale, Pierferdinando Casini. Casini, proprio Casini, ha detto che c'è stato il tentativo in Sicilia di sfasciare il partito. A Canigatti si può rispecchiare questa situazione? No, a Canigatti abbiamo un partito che, diciamo, è riemerso dopo un periodo di stasi. Si è rifondato, si è ricostituito e abbiamo, diciamo, alle scorse elezioni presentato una lista che ha avuto un risultato lusinghiero, sebbene non ci siano stati degli eletti. Successivamente ci sono state delle adesioni e il nostro lavoro ha avuto, diciamo, dei riconoscimenti anche in occasione del congresso regionale che si è appena celebrato. Del coordinamento regionale fa parte anche la Canigattinese Rita Mantione? Sì, infatti, in coordinamento regionale, insieme alla dirigenza, al nuovo segretario Giampiero D'Alia e al presidente Piraino, sono stati eletti i componenti del coordinamento, fra i quali la nostra concittadina. Noi riteniamo che questo sia un premio al lavoro che abbiamo finora compiuto e un incentivo a far sempre meglio. Una bella soddisfazione, ma anche una grande responsabilità far parte del coordinamento regionale dell'Udc. Sì, molta soddisfazione, infatti ho accolto l'elezione con grande fierezza, perché il mio impegno, non solo nel sociale ma nel volontariato, sarà ancora più gravoso nella politica, perché sono certa che le donne politica possono dare delle risposte certe. Il prossimo impegno sarà la riunione che si terrà giovedì sera alle 18.30 con il coordinamento cittadino di Canicati per dare delle risposte al nuovo direttivo. È un handicap non essere presente in consiglio comunale? Sì, è un handicap, però ce ne facciamo una ragione.